Assessore Giorgini ci eravamo lasciati poche settimane fa sulla situazione del mercato ittico e anche ente porto, però riguardante il mercato al momento ci sono aggiornamenti, soprattutto dopo gli incontri che avete fatti, numerosi incontri anche con la marineria. Sì, ci sono delle evoluzioni, il tavolo si è ampliato con molti commercianti anche non locali, con la selva di Pescara, con il gruppo dei commercianti di Napoli che trattano maggiormente il pesce azzurro, abbiamo avuto più incontri. È una situazione non facile da ripanare anche perché è nuova per il nostro mercato concettualmente. L'idea del consorzio, comunque sapevamo che non aveva una strada facilissima, ma la cosa interessante è che non c'è nessun retrofront, anzi si mostrano sempre tutti molto attenti agli argomenti. In questa settimana la Giulianova Patrimonio ci rimetterà i bilanci del mercato, quindi quelli specifici sull'asset del 2020 e del 2019, quindi anche così avremo un raffronto dei dati anche nel periodo pandemico. Fatto questo tavolo tecnico ce ne sarà subito dopo uno invece più ampio con le parti che abbiamo appena denunciato, quindi tutte le marinerie e i grossisti per arrivare a divenire ad una conclusione ufficiale. L'obiettivo dell'amministrazione comunale, soprattutto l'assessore Giorgini, era di risolvere quelle piccole problematiche prima dell'inizio della stagione balneare. Nella realtà stiamo procedendo in questa direzione, per quelle che sono le mie idee che in senso generale, sotto l'aspetto nello specifico della partecipata, il piano di risanamento la società lo sta rimettendo, quindi verrà discusso in giunta e poi portato in consiglio a brevissimo, quindi presumiamo nel prossimo consiglio comunale, e l'asset mercato ittico che in seno appunto la Giulianova Patrimonio è al punto che vi ho appena spiegato. Contiamo che nell'ingresso dell'estate, inizio dell'estate, le situazioni siano definite per tutto.